ciao a tutti da rita e bentrovati sul mio canale youtube rita chef channel oggi prepariamo insieme le verdure gratinate al forno un piatto semplice da preparare gustoso e coloratissimo prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video ed ora mettiamoci all'opera iniziamo a preparare il nostro piatto come verdure io ho scelto peperoni in questo caso rosso e giallo zucchine melanzana e patate qui vedete una ciotola in cui ho profumato l'olio con aglio e rosmarino un pochino di pepe sale e infine pane grattugiato iniziamo a tagliare le nostre verdure iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta tagliate tutte le nostre verdure possiamo procedere con la ricetta. Ora mettiamo sale e pepe nel pangrattato. Chi di voi vorrà potrà aggiungere al pangrattato anche del formaggio grattugiato. Lascio a voi la scelta. E ora procediamo a togliere il rosmarino e l'aglio dall'olio. Ora prendiamo le nostre verdure, le ungiamo nella ciotola dell'olio e poi le passiamo nel pangrattato e le mettiamo in teglia. Grazie. Grazie. Prima di passare le nostre verdure nel pangrattato lasciamo scolare l'olio in eccesso. Sono delizio delle verdure, sono già profumatissime. Ora prendiamo le nostre listarelle di peperone e le mettiamo in una teglia moderata con carta da forno. Allo stesso modo procedo per tutte le altre verdure. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le verdure sono pronte, prima di infornarle aggiungiamo un pizzichino di sale e un filo di olio. E ora possiamo cuocere le nostre verdure in forno ventilato prediscaldato a 185 gradi per 30 minuti circa. Ecco le nostre verdure appena sfornate, ora le lascio intiepidire e poi preparo un piatto da portata. E le nostre verdure gratinate sono pronte per andare in tavola. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia ricetta sia stata di vostro gradimento. E se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi, da Rita.